Amici di calciomercato.com, bentornati al consueto appuntamento con la schedina DCM, come sempre Alessandro Di Gioia, Angelo Taglieri, senza Maria Chiara, siamo tornati, siamo rimasti in due, siamo tornati in due come sempre belli, freschi, belli, splendidi, pronti a giocare le solite due schedine, una per il sabato, una per la domenica. Mi pronunciamo qualche novità per rendere più accattivante la solfa e anche perché abbiamo visto che nelle ultime schede il riscontro da parte del pubblico è stato importante, tante critiche, è vero, abbiamo fatto delle giocate un po' azzardate ma ci piace sfidare, sempre a testale. Sì, tra l'altro lì non ho sbagliato solo una settimana scorsa, ho preso dei risultati importanti, ho preso la X di Salernitana cremonese che era data a tanto, ho sbagliato solamente la SPAL che era quella più difficile, però fino all'ottantesimo ci avevo creduto e potevo portarmi a casa questi mille euro. Infatti Angelo ha quello da seguire, io sono invece quello che prova a fare colpi più estrosi, mi avete insultato in tanti per la giocata della vittoria del Milan a Napoli, poi non è andata così. Effettivamente soprattutto i tifosi del Milan che dicono che guffiamo e alcuni hanno chiesto anche cosa mi fumo, di che droga mi faccio, poi ve lo dico in privato. Partiamo con la scheda, va Angelo. Parto io con quella del sabato e vi dico già, gioco l'Inter, però i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli perché l'altra volta ho giocato l'Inter e ha vinto. Parto però dalla Serie B, quindi con l'Inter non c'è tra niente, parto da Venezia a Novara, Venezia che arriva da un pareggio in casa della Virtus Entella, 0-0, come sempre la squadra di Inzaghi è una difesa solida. Poteva andare prima in classifica invece con questo pareggio nell'ultimo turno, non c'è riuscita, però credo che il fattore casalingo contro Novara invece in difficoltà possa fare la differenza. Quindi mi gioco il Venezia, la squadra di Inzaghi che è data a 1-88. Corini è già a rischio, no? Eh sì, potrebbe essere a rischio, invece Pippo è bello saldo, è tranquillo, anzi piace al Sassuolo per la prossima stagione. Poi Venezia ha pareggiato con la Virtus Entella l'ultima, mi gioco proprio la Virtus Entella che va in casa della Provercelli. La Provercelli propone sempre un bel calcio, arriva da una sconfitta però contro Pescara di Zeeman. Un Entella che invece contro Venezia ha giocato molto bene alla Curaglietti, non ha portato vittorie, solo pareggi fino a questo momento, però la squadra Ligure sta proponendo un bel calcio. E qua mi rischio la prima partita perché gioco il 2 che è dato a 3-30, non sarà facile, però ripeto, l'Entella ha dato buone impressioni nell'ultimo turno. Poi rimaniamo in Serie B con Carpi Parma, e qui c'è il Parma capolista, il Parma che dopo un inizio difficile ha centrato 5 vittorie comunque nelle ultime 6 partite. Roberto Insigne che sta facendo la differenza per D'Aversi in panchina all'inizio dell'anno, poi dopo Calaio fuori per un problema al Polpaccio. È vero, quindi giocherà o Nocciolini, intanto Teccaro Nocciolini, 1-8 come Zamorano. Il Carpi invece arriva da un 5-0 contro il Perugia, strano perché Calabro fa della fase difensiva il suo forte. Anche in questo caso la panchina di Calabro non è tanto sicura, però io gioco il Parma perché mi ricordo un po' l'infanzia che c'è una squadra fortissima. E poi anche perché stavo parlando solo lì dell'entusiasmo, un 2 che è dato a 2,65, quindi una quota importante. È un derby? Considerabile un derby? No, no. Di derby ce ne giochi tu dopo due importanti. Cittadella Salernitana, e qui mi gioco la X, con la Salernitana non posso fare altrimenti perché la squadra, la regina delle X, una squadra di Bolini molto continua, non vincono, perde, pareggia spesso come nell'ultimo turno. X a 3,50, Cittadella che ha vinto a Palermo quindi magari può anche avere la pancia un pochetto piena. Poi mi sposto in A, Chievo Spal, la Spal che mi ha fatto saltare l'ultima schedina, io continuo a giocarla e gioco una X perché comunque ho visto una Spal positiva contro la Fiorentina nell'ultimo turno. Un Paloschi che è tornato al gol, importante anche per il mio fantacalcio. Anche Antenucci che sappiamo. Anche Antenucci, anche se è infortunato. Adesso e magari Borriello può ridare qualche segno di vita, comunque mi gioco una X a 3,50. Infine Cagliari Inter, mi gioco il 2 che è dato a 1,60. Mi faccio risparmiare questa volta perché ogni tanto mi sento in colpa. Al posto di 5 euro me ne gioco 3 e si vincono comunque 1,065 euro. Con 2,710. Un tagliere in versione natalizia che vi fa risparmiare 2 euro, che potete investire in due caffè. E io invece gioco 4 partite, quindi 2 partite meno. Questa è la novità perché ho giocato una schedina abbastanza audace. Come sapete mi piace cimentarmi. Gioco due derby, parto proprio dalla Serie B come diceva Angelo. I due derby della domenica. Una giornata veramente intrigante dal punto di vista delle stracittadine perché c'è un Bari-Foggia d'annata alle 12.30. Impossibile per me non giocare questa partita. Nonostante non ci saranno poi i tifosi del Foggia o non troppi al seguito perché la trasferta è stata vietata. Sappiamo che le due tifoserie non si amano molto. Derby pugliese con un Bari che sta facendo veramente bene. Tant'è che è primo in classifica a pari proprio del Parma. Ha iniziato anche a vincere in trasferta. Ha iniziato a vincere in trasferta ed è una squadra che veramente come organico direi che potrebbe tranquillamente stare in Serie A. Sicuramente. Un Foggia invece che si è un po' abbattuto dopo la vittoria contro l'Ascoli che aveva un po' esaltato gli animi. È arrivato subito il pareggio con la Terrana in casa ma soprattutto è arrivato l'infortunio per Mazzeo che è un po' il punto di riferimento tecnico di questa squadra. Sarà dura senza dilugio. Giocherà probabilmente Beretta con i lati Chiricò e Fedato ma non sarà semplice per il Foggia andare a Bari. Io ricordo il precedente Coppa Italia due anni fa agosto il Foggia vinse a Bari in Foggia allora militante in Lega Pro. Riuscì a espugnare San Nicola. Quindi ecco faccio un po' una via di mezzo da tutte queste cose e mi gioco una X che è data 375. È un po' la schedina delle X perché anche nell'altro derby Ternana Perugia mi gioco sempre la X. Ho visto la Ternana di Pocasci nell'ultima giornata, è una squadra coriacea, non ha probabilmente gli uomini all'altezza per disputare i campionati di Serie B ma ha uno schema di gioco che si intravede e soprattutto i giocatori sanno quello che devono fare. Quindi penso che possa rendere la vita difficile a un Perugia che ha vinto sì 5-0 contro il Carpi ma ha ancora qualche lacuna dal punto di vista difensivo. Anche in questo caso un organico secondo me quasi la Serie A però ecco sta incontrando qualche difficoltà. Con Breda è un po' in ripresa quindi penso che ci possa stare il pareggio anche perché sappiamo che nei derby quasi mai vince la squadra favorita anzi quella sfavorita. Sono curiosi di vedere come accoglieranno Breda a Ternana. Esatto perché è un ex. Dato a 325 qua la X quindi altre due X oltre a quella della Serenitana che diceva. Poi passo alla Serie A però è un po' la schedina delle X perché gioco la XXXX, cioè un 4X non come il film di Vin Diesel. Milan Torino X, anche per ringraziarmi un po' i tifosi del Milan nel senso che non posso giocare sempre rossoneri. Che pensano che io porti male, non ha torto. Una X che è data a 4, il Torino è una squadra che prova sempre a proporre calcio. Mialovic si presenterà anche un po' con il dente avvelenato nonostante poi comunque con i tifosi del Milan non ci sia un rapporto acre. Una X appunto che penso possa essere un buon risultato per il Toro, meno per il Milan. Ma il Milan ha difficoltà mentre il Toro ha dei punti fermi. I tre davanti sono veramente difficili da contenere. Poi Belotti dovrà anche svegliarsi perché obiettivamente nell'ultima partita ha fatto male anche a causa di un infortuno. Però arriverà e tornerà al gol. Chiudo con l'ultima X che non è di Serie A, ho sbagliato, ma è di Premier League. Liverpool-Celsea. Una partita, forse il big match della giornata di Premier. Una X data a 3,40 con la squadra di Klopp che è in ripresa anche se ha fatto un po' di fatica nei turni precedenti. Un Chelsea invece di Conte che sta risalendo. Sono due squadre che forse non hanno fatto vedere ancora il meglio di loro in questa stagione, ma sono due squadre da tenere d'occhio, soprattutto in ottica Champions League per quanto riguarda la qualificazione, perché il City sembra veramente lanciato. Quindi mi gioco una X, un pareggio tra Reds e Blue. Penso possa starci con i due tecnici che si tranno ancora una volta a battaglia. 5 euro, quindi non vi faccio risparmiare come il buon taglieri. 828,75. Cifre comunque importanti, partite rischiose, ma comunque hanno un ragionamento dietro. Ricordiamo sempre che c'è Mister Palmieri che invece durante la settimana ha spesso una sentenza, perché le prende quasi tutte, tanto che c'è il nostro Marco De Micheli che lo segue con molta attenzione. Detto questo, ci leggiamo nei commenti, vi aspettiamo nei commenti, e poi alla prossima settimana per nuove dritte da me e il mio socio Alessandro Di Gioia. Buon weekend a tutti!